Cerca di salire, cerca di salire, bravo così, come ti ho detto, tira, 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 tira bene, inarcati bene con la schiena e tira, insisti, insisti, dai, sali in mount, sali in mount, dai, dai, che ce l'hai, dai, che ce l'hai, sali in mount, non ti fai girare, sali in mount, cazzo, ce l'hai, insisti così, basta la gamba, basta la gamba, dai, dai così con il ginocchio, dai, Quida dentro il ginocchio, non ti fai girare, basta di posizioni, bravo così, tienilo, tienilo, cerca il collo, cerca il collo, dai, Il sistema è che cerca il corpo. Ecco, le mani in mano. Stabilizza. Tieni le braccia in avanti distese, non cercare qui. Stabilizza e metti i ganci. Allunga, bravo così. Gestisci, gestisci, va bene così. Non ti far girare. Contro barco. Cazzo, non ti farci porca. Cerca di girarlo. Buono, adesso metti i ganci e giralo. C'è giù la testa, metti i ganci e giralo. Cazzo, aspetti che ti passi la guardia. Ah, no. Ten finger, ten finger. Tieno giù. Devi cercare di girarlo. Passa le gambe sulle sue spalle. Tieni i polsi. Dai, dai che lo chiudi. Dai, dai. Insisti. Recupera posizione, recupera posizione. Spingi, spingi con la mano destra sulla anche dentro e dentro col ginocchio. Non ti far andare il mount. Difendi la mount. Ponte, 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 ponte subito, ponte. Ponte, fai il ponte, cazzo. Non ti strangola da lì, non ti strangola, fai il ponte. Non ha l'appoggio, fai il ponte. Spingi con la piazza di piedi, dai. Spingi con la piazza di piedi. Dai, dai, dai così, dai così. Insisti. Dai che ce la fai. Spingi bene. Dai, dai che ce la fai. Ancora, ancora, ancora. Ah, gira, 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 gira. Insisti però. Insisti. Ti prendi giù il cordo, ti prendi giù. Bravo. Tiralo giù. Tiralo giù. Dai, 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 dai. Giù, 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 giù. Dai, insisti. Forza, arbre, giù. Attenta il gomito. Non ti far chiudere la leva. Non ti far chiudere la leva. Gira, gira, fai il ponte. Fai avanti, fai il ponte. Fai il ponte, fai il ponte. Se non fai il ponte non esci da lì, eh. Devi girarlo. Devi uscire a stabio. Devi girarlo. Andre, dall'altra parte. Ponte e gira. Di là. Di là. No, verso la tua sinistra che non c'ha l'appoggio. Dai, cazzo. Verso la tua sinistra che non ha l'appoggio del braccio. Di là, appoggio. Di là, appoggio. Dai, dai, dai. Verso la tua sinistra fai il ponte che non c'ha l'appoggio, cazzo. Oh, dalla parte, spingi. Devi stringere la parte. Compartamento al braccio. Guarda che mi imbalza. Senza di col braccio. Oggi. Dai con le anche, dai con le anche. Bravo, bravo. Passa di qua, passi alla mia parte. Insisti, insisti. Non mi teniamo più stretto. attenzione. Giralo, giralo. Girati, girati. Gira. 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 Non te lo farà andare in mano. 30 secondi. Dai, gestisci, gestisci. Non ti agitare. Sei in mezza guardia. Metti la guardia intera. Andava a mezza, metti la guardia intera. Dai, ti ripola sulla gamba, Fabri. Non ti far passare, non ti far passare. Che cazzo. Non ti girare di schiena, non gli dare la schiena. Non gliela dare. Non ti strangola così, resisti. Dai, chiudi bene. Chiudi bene la gamba. Non faria la schiena. Dieci. Non far mandare, non far mandare. Dai. Dai così. Fine, fine, fine. Dai, fine, fine. Dai, va bene.